E' buono, vero? Senti com'è buono? Cosa? Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore del napalm al madino. Una volta abbiamo bombardato una collina, per dodici ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina, tutto intorno, profumava come... come di vittoria.